ciao ragazzi io sono nicodine sono ritornato con un video breve 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 abbiamo fatto finalmente l'icona media a scelta speriamo bene ho spesso più o meno 200 230 mila crediti per per fare questa sfida quindi speriamo speriamo bene mi raccomando ragazzi lasciate un mi piace al video iscrivetevi al canale ci manca solamente sei iscritti per arrivare ai 300 e tutto gratis ragazzi e mi aiutate quindi siamo quasi quasi pronti io spero di trovare qualcosa di buono qualcosa che mi serve non lo so che cosa potrei trovare mi servirebbe davvero il fenomeno come atti però vediamo che cosa c'è qua dentro in 3 2 1 via vai vai si è tu l'attacante ce l'abbiamo signori samuel the king e tu non dico che sono stato fortunato poteva andare molto molto peggio poteva andare molto 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 peggio come vedete socrates ci poteva pure stare sanchez non credo proprio però questo samuelinio e tu signori è venuto proprio proprio come doveva venire incredibile finalmente una gioia anche per me andiamo a prendere samuelinio samuelinio e tu signori samuelinio e tu mamma mia ne valza la pena non so quanto costa ma adesso andiamo a vedere quanto costa samuel e spero che vabbè sicuramente costa più di quei 230 mila che avevo speso io confronto a prezzo 600 mila euro di carta più di 6 60 700 mila e un win per me perché l'ho pagato solamente 230 mila ragazzi io vi ringrazio tanto come sempre e ci vediamo con un prossimo ciao ciao